Il presidente dell'area vasta Puma accoglie l'appello lanciato dalla CGL ai nostri microfoni per un tavolo provinciale per la legalità sul lavoro, chiesto però che la guida sia della prefettura. Carlo Barbieri inaugura la campagna elettorale per il pallottaggio bis a Voghera, per lui pronta anche la conferma ai vertici provinciali di Forza Italia. Fra poco vi svegliamo tutti i nuovi dirigenti del partito. Raid vandali col gattire di Vigevano, reti tagliate, porte forzate, gabbiette aperte, scappano decine di animali, non tutti sono stati recuperati, preoccupazione per i gattini malati. Il tribunale è dichiarato il fallimento del vecchio Pavia Calcio, intanto dalle carte societarie dell'FC Pavia si scopre che non è ancora in vigore il cambio di dirigenza, presidente risulta il sindaco De Paoli. A Voghera non ci sono spazi per la cultura, la denuncia di Leonardo Gallina, storico espositore che ormai fatica a trovare locali per avere rassegne. Edizione entusiasmante della Sagra dell'Offella a Parona, decine di attrazioni hanno aglietato la festa dedicata al celebre biscotto romellino esportato in tutta Italia. Buonasera, benvenuti a Pavia Italia. Nelle scorse edizioni vi avevamo presentato l'appello della CGL che diceva che sul nostro territorio ci sono troppe situazioni in cui la legalità sul lavoro non viene rispettata. Era arrivato un appello alle istituzioni perché si costituisse un tavolo sulla legalità sul lavoro in provincia. Un appello che viene adesso raccolto dal presidente dell'area vasta Vittorio Poma che dice intanto possiamo fare qualche cosa con i comuni per gli appalti. E per quanto riguarda il lavoro, l'area vasta c'è però ci deve essere anche la prefettura. L'intervista di Luca Pattarini. Rispetto alla proposta di istituire un tavolo, la provincia è sicuramente favorevole e d'accordo. Mette a disposizione le proprie competenze e il proprio ruolo di coordinamento che potrà rafforzarsi dalla prospettiva di diventare, se i comuni lo vorranno, stazione unica appaltante. Il che permetterà di tenere sotto controllo le procedure di affidamento dei lavori e le conseguenze di questi affidamenti. Nello stesso tempo siamo dell'avviso che i fenomeni di illegalità, come il dumping sociale, per cui il mancato rispetto ai diritti lavoratori e anche delle normative sulla sicurezza, presuppongano la presenza al tavolo anche di soggetti, enti e autorità che possono trovare un utile momento di coordinamento da parte della prefettura. Questo non significa che non siamo disponibili a dare il nostro contributo, significa soltanto che pensiamo di farlo mettendo insieme tutte le competenze e avendo ben presente quali sono i diversi livelli di responsabilità. In questo senso siamo pronti, se la prefettura riterrà di fare questo passo, ad affiancare la prefettura in un lavoro comune di collaborazione. Continua a fare notizia il Pavia Calcio per fatti che esulano dal campo di gioco. I giudici del Tribunale hanno dichiarato fallita la società sportiva Pavia Calcio, la vecchia società. La decisione è arrivata nelle scorse ore dopo che alcuni ex giocatori e sei ex dipendenti avevano presentato istanza di fallimento. I debiti del club, delle proprietà dell'imprenditore cinese Zhu, ammontavano a diversi milioni di euro. Dopo la dichiarazione di fallimento è già stato nominato il curatore fallimentare. Vedremo anche cosa succederà, ma qua siamo praticamente ai titoli di colda. Mentre invece nella nuova società anche qui non è del tutto chiaro che cosa stia accadendo, perché andando a scrutare fra le carte si scopre che non è ancora stato ratificato il cambio della dirigenza. Il presidente dell'FC Pavia è ancora il suo fondatore, cioè il sindaco De Paoli, che doveva occuparsi, effettivamente nella pratica si è occupato soltanto della fase di stransizione. Se un giorno dovessero mai fare un film sulle vicende del calcio a Pavia sarebbe sicuramente un bimovie. Tra cinesi in fuga, fallimenti, eliti persino sugli incassi dello stadio, non è mancato proprio nulla in questa tormentata estate. Il futuro del club da un punto di vista societario si deciderà in due assemblee. Una, convocata l'11 ottobre dalla presidentessa Rasparini, dimessasi con altri tre consiglieri del CDA la scorsa settimana. Ed un'altra, calendarizzata invece per il 14 ottobre, dal direttore Londrosi. Ma tra i due appuntamenti spuntano dubbi e perplessità su una terza assemblea. Quella dello scorso 16 agosto, che avrebbe dovuto segnare il passaggio dal vecchio CDA, composto dal sindaco De Paoli, dall'assessore Lazzari e dal presidente del Consiglio Comunale Sacchi agli attuali consiglieri. A distanza di un mese e mezzo, infatti, il verbale non è stato ancora depositato in Camera di Commercio. Basta una semplice visura camerale per verificare che, carte alla mano, il presidente del Consiglio d'amministrazione risulta essere ancora Massimo De Paoli, mentre sia Lazzari che Sacchi compaiono come consiglieri del club. Il termine consueto dei 30 giorni, per evadere la pratica insomma, non è stato rispettato. Eppure, in via Alzaia, hanno dimostrato di saper essere piuttosto sbrigativi in alcuni casi. Basta prendere proprio il verbale dell'assemblea dello scorso 16 agosto. Una calda domenica pomeriggio in cui, presso la sede del club, l'assemblea, presieduta dal sindaco, avrebbe sancito il passaggio di consegne alla presenza di tutte le parti in causa. Una riunione flash, come testimoniato dallo stesso documento. Il verbale riporta infatti come orario d'inizio le ore 18, ed il termine alla medesima ora. Un'anomalia piuttosto evidente. In meno di un minuto in pratica, l'assemblea avrebbe sancito le dimissioni dei vecchi amministratori e nominati nuovi, attribuendo a ciascuno di loro deleghe e relativi poteri. Un minuto per decidere ed oltre 40 giorni per depositare. Un caso nel caso, nella recente e tormentata storia del calcio a Pavia. Dovrà comparire nuovamente in un'aula di tribunale Carlo Chiriaco, l'ex direttore dell'Asla di Pavia, già condannato a 12 anni di carcere nel maxiprocedimento infinito contro l'andrangheta in Lombardia. Il giudice dell'ottava sezione penale di Milano ha non respinto infatti la richiesta di dichiarare il non luogo a procedere per un altro processo. Chiriaco è accusato infatti di aver truccato una gara d'appalto dell'ospedale San Paolo di Milano nel 2009. Turbativa d'asta e corruzione le accuse a carico dell'ex direttore di Pavia. L'udienza è stata rinviata il 13 ottobre con l'ascolto dei primi testimoni. Passiamo alla cronaca, andiamo in periferia. Vigevano al gattile della frazione Fogliano. Guardate che cosa è successo. La recinzione è tagliata, la porta danneggiata e le gabbie esterne aperte. Questa è la situazione che hanno trovato i volontari del gattile di Vigevano dopo un ride vandalico che ha interessato la struttura. Cosa sia effettivamente successo e perché è ancora da ricostruire del tutto. Di certo qualcuno è arrivato a nottetempo e ha tagliato la rete esterna. Poi ha cercato di scassinare la serratura senza riuscirci, ma danneggiando comunque la porta d'ingresso. Infine, la liberazione dei gatti che dormivano all'esterno. Non si sa se si sia trattato di un dispetto, di un atto vandalico, di un tentativo di furto andato male. Sta di fatto che sono scappati diversi gatti e i volontari sono preoccupati. Stamattina sono arrivata alle 8 e ho trovato la rete tagliata, tutti i gabbioni esterni aperti e sono scappati gatti che hanno anche bisogno di cure. Quindi non so che ha potuto fare questo, un atto di vandalismo, di cattiveria, non si sa. Comunque questa è la situazione. Abbiamo dovuto aprire la porta perché hanno tentato di scassinarla e abbiamo dei gatti in giro e non sappiamo se riusciamo a recuperarli. E ne mancano parecchi. I volontari del gattile stanno cercando di recuperare tutti gli animali. Le situazioni più delicate riguardano naturalmente i gatti malati che non sono in grado di sopravvivere senza cure continue. Per quanto riguarda invece i danni alle strutture, ci si è già adoperati per ripristinare la situazione alla normalità. Spavento e tanta paura per una coppia di coniugi di Garlasco. Lui 80 anni, lei 77. Si sono svegliati in piena notte e hanno visto 4 uomini che fuggivano dalla loro abitazione. State zitti, ha ordinato uno dei banditi prima di scappare a bordo di un furgone di proprietà della stessa coppia garlaschese, furgone trovato nel cortile della casa. La gang era entrata silenziosamente, i due anziani comunque avevano avvertito con i rumori sospetti che li avevano messi in allarme. Una volta svegli si sono trovati faccia a faccia con i malviventi che poi sono scappati con un bottino di 750 euro in contanti, telefoni cellulari e un televisore oltre al furgone di cui parlavamo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Garlasco. Un ferito grave di 59 anni è trasportato d'urgenza a Policlinico San Matteo di Pavia e un altro di una cinquantina d'anni con traumi vari sul corpo e il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio attorno alle 14 a Borgo Priolo, non lontano dalla chiesa della frazione Staghiglione, insomma proprio in piazza. Coinvolti due mezzi, una Fiat Panda, un fuoristrada Suzuki su cui viaggiava il ferito più grave che poi è stato ricoverato visto con la massima urgenza. Il referto parla di un forte trauma cranico. Il ricovero, come dicevamo, è avvenuto al Policlinico San Matteo di Pavia. Passiamo alla politica, politica che in queste ore vede assoluto protagonista il partito di Forza Italia, un partito che sta per rinnovare il suo direttivo provinciale. E allora con Mario Fortunato siamo in grado di offrirvi diversi nomi e componenti di questo direttivo in anteprima. Messe da parte, forse, le polemiche, è ora di chiudere la lista. Forza Italia è pronta ad ufficializzare i nomi del direttivo provinciale guidato da Carlo Barbieri. Più o meno 25 in tutto, che avranno il compito di affiancare il commissario in questa delicata fase che culminerà in inverno con le elezioni comunali di Voghera. Le trattative per definire i nomi sono ormai in dirittura d'arrivo. Nelle scorse ore Barbieri aveva in agenda alcuni appuntamenti per chiudere la lista. In attesa dell'ufficializzazione, gli spifferi sulla composizione del direttivo non si sono fatti però attendere. Al suo interno dovrebbero trovare posto i principali rappresentanti, i pavese oltre poi Lomellina. Per il capoluogo spazio quindi all'ex sindaco Cattaneo, che siede già all'interno dell'ufficio di presidenza nazionale, e ad Antonio Bobbio Pallavicini, capogruppo di Forza Italia al Mezzabarba e consigliere provinciale appena eletto. Sempre da Pavia poi dovrebbero rientrare anche Renzo Cavioni, l'ex consigliere comunale Dante Labate e Alberto Gatti, in rappresentanza dei giovani del partito. Per la Lomellina, divenuta zoccolo duro del partito dopo le elezioni provinciali, i nomi caldi sono quelli di Antonello Gagliani, consigliere comunale a Vigevano, di Franco Varini, dell'ex sindaco di Groppello Giuseppe Chiari e soprattutto di Ruggero Invernizi, record man di preferenze alla recente tornata per il rinnovo dell'amministrazione di Piazza Italia. L'oltre poi infine, conserverà la guida del partito con il coordinatore Carlo Barbieri, chiamato a riconquistare anche la leadership di Palazzo Gunela. Con lui dovrebbero trovare spazio anche il sindaco di Retorbido, Romano Ferrari, e Gian Piero Rocca, coordinatore di Forza Italia Voghera. E però ancora non c'è la data per il voto a Voghera, per il cosiddetto ballottaggio bis. Sarà probabilmente fra poco. Il ballottaggio bis dopo che è stato acclarato l'errore di conteggio che aveva portato i candidati sbagliati alle elezioni di un anno e mezzo fa. Dicevamo ancora una data non c'è, però Carlo Barbieri ha già inaugurato la sua campagna elettorale. Lo abbiamo sentito. Per la prima volta abbiamo incontrato, dopo la scellerata decisione del Consiglio di Stato che ha confermato il TAR di rifare il ballottaggio nella città di Voghera presumibilmente intorno al mese di gennaio. Ieri sera abbiamo formalmente aperto questa veramente incredibile campagna elettorale che ci vedrà impegnati per cercare di rivincere la terza volta per essere confermati nella città di Voghera. Ho incontrato tutte le mie liste che mi hanno accompagnato e mi hanno portato alla vittoria insieme alla mia squadra nel 2015. Tante persone, tante persone motivate, tanti vogheresi motivati, persone che sono della città e vogliono bene la loro città e non accettano nel modo più assoluto questa decisione dall'alto sbagliata che ricontando semplicemente i voti di due seggi su 39 hanno deciso di far rivotare la città. Una decisione che probabilmente sarebbe stata maggiormente accettata se il risultato fosse scaturito da un riconteggio complessivo dei 39 seggi. I temi sono sempre quelli sui quali noi stavamo lavorando e sui quali lavoreremo anche nel futuro. Il tema della sicurezza, sicurezza non vuol dire solo sicurezza delle case, sicurezza dal punto di vista dei furti, sicurezza vuol dire anche occupazione per i giovani, posti di lavoro, impegno nella sicurezza degli anziani. Vogheresi che hanno sempre dato qualcosa alla loro città, hanno pagato le tasse per una vita che oggi si trovano in difficoltà perché questo paese è in difficoltà. Ricorderete i nostri servizi delle scorse settimane in cui davamo conto delle numerose lamentere giunte in redazione per via dell'erba troppo alta nelle rotonde lungo il garela della tangenziale e divisevano in altre vie. Ebbene, come si può vedere dalle immagini, le amministrazioni comunale e provinciale hanno provveduto ad assegnare l'incarico per il taglio in questi giorni. Una cooperativa è al lavoro per risolvere il problema. Dagli operai però arriva un altro tipo di segnalazione. Sembra infatti che gli automobilisti non si comportino in maniera rispettosa del loro lavoro, passando ad alta velocità e compiendo sorpassi azzardati in prossimità delle zone di cantiere. I lavoratori quindi chiedono maggiore prudenza anche in considerazione del fatto che lo scorso 3 agosto, lo ricorderete, purtroppo è una circostanza davvero drammatica. Proprio durante un cantiere di questo tipo si verificò la morte di un operaio in un incidente stradale. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Garlasco hanno denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una coppia di 49 anni, entrambi di Alagna. Durante la loro perquisizione, nel corso di un'operazione finalizzata a contrasto di stupefacenti, i carabinieri hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo ashish, piante di marijuana, le vediamo, di alto e piccolo fusto, semi di cannabis, nonché infiorescenza di marijuana e un bilancino di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro. Un'altra operazione dei carabinieri, invece, a Stradella, ha cercato di portare un po' di sicurezza fra i casolari di campagna abbandonati. Casolari abbandonati come crocevia di traffici di droga e refurtiva oppure come ripari improvvisati usati da ricercati dalla giustizia. Diverse segnalazioni alle forze dell'ordine hanno messo in moto la macchina delle indagini dei carabinieri di Stradella che nelle scorse settimane hanno setacciato cascine abbandonate e ricoveri attrezzi nelle campagne dell'oltrepo orientale. È nel corso di questi controlli che l'altra sera un albanese pregiudicato di 26 anni è finito in manette. Sulla sua testa pendeva infatti un mandato di cattura spiccato dal tribunale di Busto Arsizio ormai alcuni mesi fa. L'uomo in Italia senza fissa dimora è ritenuto il responsabile di ben due episodi di furto e ricettazione commessi nella provincia di Varese e anche a Gerenzago, nel Pavese. È stato quindi portato in carcere a Pavia. Secondo quanto accertato dai militari, il 26enne albanese negli ultimi giorni era ospite di un connazionale, anche egli pregiudicato ma non ricercato e non si esclude che i due stessero pianificando nuovi crimini. C'è una pausa pubblicitaria, torneremo poi, dobbiamo parlare di questo dibattito che si sta aprendo a Voghera, se effettivamente ci sia o meno lo spazio per la cultura in città e poi davvero imperdibili le immagini della Sagra dell'Offella di Parona. Riprendiamo con la seconda parte di Pavia Italia. Allora vediamo l'annunciato servizio di Ermanno Bidone, una prima parte di questo dibattito sul fatto se a Voghera ci sia o meno spazio per proporre eventi culturali. A Voghera manca uno spazio per l'arte e la cultura degno di questo nome. È difficile così organizzare esposizioni ad esempio pittoriche di alto livello. Parola di Leonardo Gallina fondatore dell'associazione culturale Progetto Voghera che si appresta a festeggiare i 20 anni di attività e che da 7 anni organizza rassegne che portano in città scrittori, artisti e musicisti noti a livello internazionale come nel caso di Ambrogio Maestri per fare un nome atteso al Teatro San Rocco sabato prossimo 15 ottobre. La sala Pagano l'abbiamo utilizzata per tanti anni facendo veramente molta fatica. ci piacerebbe che ci fosse una sala attrezzata per poter ospitare delle mostre importanti come quelle che abbiamo fatto dove ci sia la guardiania la custodia una temperatura costante un'umidità costante come in tutti i musei del mondo voglio dire per portare delle opere importanti bisogna avere certe cautele. Noi festeggiamo quest'anno i 20 anni della nostra associazione. Il nostro festival vuole essere un punto di riferimento costante e lo è già diventato ma vorremmo che fosse un festival importante che ne so io un po' come Mantua per esempio e a Boghera sarebbe importante che ci fosse un punto di riferimento che ospitasse queste manifestazioni. L'attesa infinita del restauro del teatro sociale e la diatriba con lo Stato per l'acquisizione del castello sono due tasselli fondamentali di questa vicenda che periodicamente torna a far discutere e che sarà probabilmente oggetto di un confronto tra i candidati alle prossime elezioni amministrative di gennaio. C'è una buona notizia per il San Matteo la Fondazione per la ricerca biomedica di Regione Lombardia ha approvato e finanziato due progetti di ricerca proposti da Policlinico in primo l'obiettivo di identificare i geni mutanti che sono responsabili di alcune malattie neoplastiche rare finanziato con 4 milioni di euro il secondo ha ottenuto un finanziamento di oltre 3 milioni di euro sarà coordinato da San Matteo con la collaborazione di altri 8 ospedali lombardi riguarda il citomegalovirus o CMV studiato nei pazienti trapiantati e nelle donne gravide il virus con questo nome molto complicato è la causa infettiva più frequente di ritardo mentale e sordità congenita pensate si stima che in Italia nascano ogni anno 3.000 bambini con questo tipo di infezione congenita che da ritardo mentale e sordità insomma con questi soldi il Policlinico cercherà una soluzione e adesso la grande festa che si è tenuta a Parona per celebrare il biscotto celebre in tutta Italia l'Ofella guardate come stanno le nostre passionette della banda di Santa Cecilia di Rovello Paolo che anche quest'anno ci sono venuti a trovare hanno fatto una banda che è un'ottima che è una nostra bella di Corona a Parona a Parona o di Rovello Paolo un'ottima che è un'ottima che è un'ottima di Rovello Paolo Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Via! Lasciate i palloncini! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!